mamma io adesso non so proprio che cosa dirti mi dispiace così tanto io io davvero non lo so mamma ehi martin che cosa succede stai bene sì starò bene solo ci vorrà ancora un po ti abbiamo svegliato come ora devi tornare a letto tesoro sai i bambini non dovrebbero stare svegli a quest'ora buonanotte martin